Salve a tutti e ben ritornati per questo nuovo video. Oggi andiamo a rivedere insieme parti dell'intervista di Hans Niemann rilasciata su chess.com, intervistato da Gotham Chess. Secondo me questa intervista è stata determinante anche per il risultato di Niemann in questa competizione, perché ci fa capire lo stato d'animo e psicologico di Niemann, o comunque per come lo era prima di giocare contro Carlsen, appena prima o il giorno stesso. Quindi riesce a darci tutta una serie di informazioni e a farci avere una visuale della situazione un pochino più completa e dettagliata. Prima di iniziare ricordo ovviamente di mettere mi piace e di iscrivervi al canale, forza ragazzi con le iscrizioni, arriviamo a 100.000 iscritti, abbiamo superato gli 85.000, grazie a tutti, iniziamo. Ok eccoci qui, la prima parte dell'intervista effettivamente mi era piaciuta tantissimo, vediamo cos'ha da dire Hans Niemann. I think I'm actually the most polite and kindest chess player, and I have, it's, 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 people have this reputation about me, but I don't see these other chess players donating money to Nigerian kids so they can have health care to play chess. I don't see these other players giving away $10,000 to have scholarships that were awarded to five girls and five boys all over the world. I had applications from over 50 countries, I was even, I had one kid apply from Nigeria, and a very inspiring story, never replied to the email. So, you know, people's understanding of my character, I don't really see them doing charity to help chess, I don't really see them, you know, do these things, instead they promote gambling. Ok, Niemann inizia con il dire che lui non è arrogante e irrispettoso, poiché comunque contribuisce nel mondo degli scacchi a migliorare la situazione del gioco e a far divulgare il gioco. Fa beneficenza con borse di studio da 10.000 dollari e allora già si compara subito agli altri giocatori o personaggi che ruotano intorno a questo mondo. In pratica tira fuori il gioco d'azzardo poiché Nakamura nelle sue live a volte streama il gioco d'azzardo, insomma, fa pubblicità al gioco d'azzardo. Poi dopo accuserà anche Godam Chess di aver portato il poker come sponsorizzazione, no, del gioco d'azzardo. Mentre lui dice io queste cose non le faccio, non le faccio per dignità, quindi io sono colui che aiuta le persone. E quindi qui era proprio partito con il piede giusto. Ora, è vero che non ti devi paragonare agli altri, però hai tutta la possibilità di dire, guardate, io per il mondo degli scacchi faccio questo, voi cosa fate? Come mai mi incolpate? Come mai ce l'avete con me? Quindi un gran bel inizio da parte di Niemann, secondo me. Ma andiamo oltre per vedere il clima che si è creato. You know, Levi, you know, if you really think that you're such an unbiased character, let's remind ourselves of how your career was created. You were a normal international master, I remember I was getting 2,000 viewers and you didn't get 100. And then every single day you'd stream with Icaro, every single day after you finished, you'd raid your stream, you had the same manager, you were giving up, you know, Levi. Unfortunately, you are forever indebted to Chess.com because they created your career. I wouldn't say so. No, but the thing is that you deny the complete growth and the little catalyst of... Ragazzi, scusate, mi fa troppo ridere il modo in cui Gotham Chess osserva Niemann quando parla. Niemann si presenta lì in maniera seria. Non è come gli altri che prendono queste interviste alla leggera. Lui quando va a fare queste interviste si sfoga tantissimo perché si vede che dentro di stessa comunque male, no? C'è qualcosa che non gli torna. E allora in pratica se la prende con Gotham Chess e Nakamura che secondo lui sono dei prodotti dell'azienda Chess.com. L'azienda Chess.com secondo Niemann è un'azienda ormai enorme e dovrebbe essere l'azienda che fattura più soldi in assoluto con gli scacchi. Ed è vero questo, molto più della fide sicuramente. E lui fa il paragone e dice guarda io ho iniziato a streamare anche prima di te. Quando io facevo 2.000 spettatori tu ne facevi ancora 100. Allora tu cosa hai fatto? Facevi sempre le live insieme a Nakamura, avevate lo stesso manager per crescere e siete stati aiutati da Chess.com. Questo è vero perché Chess.com cerca di comprare tutti gli streamer praticamente. Cerca di avere il controllo su tutti gli streamer per emergere come piattaforma. Quello è una loro idea di business. Però Niemann gli fa capire che loro non sono liberi di dire ciò che vogliono. Perché ci sono stati streamer che hanno detto delle cose come ad esempio Ben Feingold ed è stato richiamato subito da Chess.com, gli hanno inviato una lettera. Allora cioè fai lo streamer però non sei libero di dire tutto ciò che vuoi. In pratica tu fai parte della propaganda del sito Chess.com perché hai un contratto con loro, guadagni i soldi da loro. Quindi effettivamente mi è piaciuto tanto l'inizio di questa intervista. Non penso che Niemann stia dicendo delle cose sbagliate fino a questo punto. Poi voi ditemi anche cosa ne pensate. Però secondo me per ora ha ragione insomma a dire così. Io non ce lo vedo Godam Chess parlare male di Chess.com o criticarlo come non ci vedo Nakamura. Al massimo possono dire secondo me qui Chess.com ha sbagliato ma non criticano mai la piattaforma. E Chess.com lo puoi criticare in tantissimi modi comunque. Tuttavia quello che penso è che qui gli animi si stanno scaldando troppo. e Niemann non può presentarsi in questo modo e poi dopo poche ore affrontare Magnus Carlsen perché dal punto di vista psicologico è compromesso di già come vedete. Andiamo avanti. Ragazzi mi fa ridere troppo. Niemann dice tu sei una marionetta di Chess.com ma di cosa stiamo parlando? Perché Niemann secondo lui ha subito un'ingiustizia. Mentre stava giocando il famoso torneo con Carlsen al Signify Cup Niemann viene bannato magicamente da Chess.com quando pochi giorni prima era stato invitato ad un loro evento loro gli hanno detto per noi noi non abbiamo problemi con te quindi mentre lui era stato invitato ad un evento senza che avesse mai giocato dato che era a un torneo a tempo lungo questi prendono e lo bannano a caso e poi dopo addirittura ammettono che è stato un errore da parte loro averlo bannato però questo lo ammettono molto più tardi tipo due anni dopo no? E allora Niemann dice ma scusate ragazzi voi mi stavate tutti accusando compreso te c'era una propaganda contro di me e poi tu hai cambiato idea solo recentemente quindi ecco vedete da dove parte il tutto che erano tutti contro Niemann ci hanno giocato tutti no? contro Niemann in realtà nessuno sapeva bene cosa stesse succedendo però se tu lo accusi o comunque mantieni il pensiero di Chess.com allora Niemann qui ha tutto il diritto di reagire ma allora come vedete in pratica ora Niemann qui sta per partecipare a un torneo organizzato da Chess.com parla male di Chess.com e in contrasto con gli altri personaggi che parteciveranno e che comunque hanno un contratto con Chess.com perché Karsen ha un contratto con Chess.com Nakamura ha un contratto con Chess.com Kodam Chess ha un contratto con Chess.com come si può sentire lui dentro quell'ambiente? quindi è già qui a livello psicologico già qui secondo me la sfida no? non è una sfida normale in condizioni normali perché già qui ha influenzato tantissimo è condizionato a livello mentale ma chiunque lo sarebbe quindi questo può anche significare che Niemann giochi peggio perché appunto è condizionato e infatti Niemann secondo me non ha giocato al suo livello sono convinto che Nakamura e Karsen siano più bravi di lui questo nessuno lo mette in dubbio ma forse Niemann poteva fare anche qualcosa in più quindi io fino a questo punto dell'intervista non ho assolutamente niente da dire sono d'accordo con Niemann Chess.com sta prendendo troppo potere a livello mondiale ma questo l'ha detto anche Caruana cioè io mi ricordo l'ha detto Caruana a Ronian non dobbiamo monopolizzare gli scacchi qui c'è solo un'azienda che comanda fa quello che vuole ok questo sta succedendo per fortuna non è Chess.com a determinare i titoli dei giocatori c'è esiste ancora la fide però c'è solo un'azienda che non ha nessun competitor questa è la verità the thing with Hikaru is that i don't have to win i don't have to beat him today but he's 36 like there's going to be a time when Hikaru is sitting in his pineapple shirt and he's not playing chess anymore and he's just going to have to watch me win tournament after tournament he's not going to be too old to even compete by then I'll have 10 million subs so I prefer not even to beat him I just would like him to not even have the chance to compete against like I want to like my reigns is going to last so long that he's going to be at the age of like just like he can't even walk anymore and I'm still going to be winning Qui effettivamente secondo me Neiman si lascia andare un pochino troppo Ecco, inizia a prendersela con i suoi avversari Nakamura e Carlsen E di Nakamura dice Io non ho bisogno di batterlo a Nakamura Perché Nakamura è vecchio Quando io dominerò il mondo degli scacchi Nakamura non potrà altro che guardarmi dalla televisione Lui non potrà giocare, non potrà fare niente Io dominerò per molto tempo il mondo degli scacchi Dice Neiman Però in questo modo lui sta cercando di mettersi in un punto di superiorità Mostrare superiorità verso il suo avversario Quando in realtà ancora oggi è più debole Cioè Neiman è più debole di Nakamura Non può andare in un'intervista a parlare così Soprattutto se poi lo deve affrontare Perché se no prendi veramente badilate sui denti Cioè questo è il discorso E poi è quello che è successo Cioè a livello psicologico è sbagliatissimo andare a parlare male di un avversario Mostrando un ego smisurato Perché poi dopo devi confermare ciò che hai detto Se poi vai a giocare Inizi a perdere una o due partite Aspetta perché la tua mente si contrasta con ciò che hai detto in precedenza Eh perché tu in precedenza affermi Io sarò io a vincere Perché lui ha detto anche avrebbe vinto l'evento Però la mente inizia a subire una sconfitta Due sconfitte Si crea con un trasto E va in tilt Non sai più neanche giocare E poi non sei più capace Infatti Nakamura ha detto che Neiman ha giocato da schifo Carlsen ha detto che Neiman è migliorato Invece Nakamura ha detto Guarda qui ha giocato proprio da schifo Neiman Giocava meglio nel 2021 Ma non è finita qui Se la prende addirittura anche con Carlsen E secondo me su Carlsen dice delle cose ancora più gravi Che dimostrano anche una certa immaturità da parte di Neiman Ecco Cristo Questo sbaglia Neiman nei confronti di Carlsen Dice che Carlsen è già rotto Come io l'ho rotto Quando abbiamo giocato contro la Sink Fight Cup Ho visto delle sue interviste E sembra mentalmente distrutto Quindi penso che non avrà possibilità Questa non è una sfida a scacchi È una sfida a livello psicologico mentale Invece poi sappiamo tutti come è andata a finire Ovvero che Neiman ha perso 17,5 12,5 E poteva perdere con uno scarto ancora maggiore Ecco qui secondo me Lui si sarà già pentito Di aver fatto questa intervista E di aver detto queste parole Non puoi dire parole di questo tipo Quando hai un incontro Poi dopo però non dimostri neanche quello che hai detto Insomma E rimane ovviamente quello che ho detto prima Che sono parole gravi queste da parte di Neiman Deve crescere ancora un pochino a livello mentale Detto questo sappiamo tutti com'è finita E poi Neiman cosa ha fatto si è scusato su X con questo post Dice non ci sono scuse per la sconfitta Tornerò ancora più forte Grazie a tutti i miei fan Vi prometto che sono molto determinato A fare qualsiasi cosa per diventare il numero uno al mondo Quindi la determinazione non gli manca È giovane Ha tutto il tempo per poter arrivare tra i primi O anche il numero uno al mondo Deve imparare a comunicare secondo me Perché ha troppa grinta Troppo nervosismo dentro di sé Non riesce a mantenere la calma E quindi rischia appunto di fornire informazioni O rilasciare informazioni che non dovrebbe appunto Perché è vero Ha ragione lui che la sfida è anche una sfida psicologica La sfida era già iniziata ancora prima che loro si sedessero A giocare sulla scacchiera Già tramite le interviste inizia la sfida Allora devi essere molto bravo a gestire queste interviste Perché Nakamura e Carlsen se la ridevano Insomma non erano contro Cioè così gravemente contro Neiman Nakamura diceva Ma io non ci penso neanche a Neiman Io penso che Neiman pensi tutto il giorno a me Io a me di lui non me ne frega niente E poi diceva apertamente Beh che sarà mai se io tra due anni Dice Nakamura Non giocherò più a scacchi A me non interessa ho già dato Quindi sembra tranquillissimo Invece Neiman è aggressivo Nervoso Offende gli avversari Questo non va bene Soprattutto se poi Devi giocare la sfida il giorno stesso Ecco qui Neiman ha commesso un errore clamoroso Fatemi sapere voi cosa ne pensate Vi ringrazio per la visione di questo video Vi ricordo di mettere mi piace Iscrivetevi al canale Ciao E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti